Condivido le osservazioni di Luca Bianchi, aggiungo in base alla mia esperienza che quando parliamo di futuro, e sono contento che questo tema era presente anche nelle relazioni di base alla discussione di oggi, quando parliamo di futuro dobbiamo preoccuparci molto di favorire le relazioni positive e il clima di fiducia tra le persone, in una parola favorire la dimensione comunitaria, perché questo ha a che vedere come dimostra l'esperienza e ormai grazie a Dio anche qualche teoria che questo ha a che vedere con lo sviluppo.